Nel menu scenery è possibile creare degli scenari. Uno scenario può armare e disarmare automaticamente tramite un calendario e una pianificazione temporale. E' possibile impostare un'azione, quando la centrale inserisce o disinserisce, collegare il relè a un utente, unire il relè a un calendario automatico, collegare il relè a una zona. Grazie per la visione!